Voci.fm News, ultimissime dal mondo della voce. Bentrovati all'ascolto da Angelo Costanzo. Si avvicina all'arrivo nei cinema italiani del nuovo film Disney La Sirenetta, diretto da Rob Marshall. Nella versione originale del remake in live action del lungometraggio d'animazione Disney del 1989, La Sirena Ariel è interpretata da Ali Bailey, doppiata in italiano da Sara Labidi nei dialoghi e Diana Sì nel canto. La voce della malvagia Ursula, interpretata da Melissa McCartney, è di Simona Patitucci, doppiatrice di Ariel nel classico del 1989. Javier Bardem è il padre della Sirenetta e sovrano di Atlantide Re Tritone, doppiato in italiano da Roberto Pedicini, Il Principe Umano Eric, interpretato da John Howard King, è doppiato nei dialoghi da Federico Campaiola e da Simone Juè nel canto. La voce italiana del granchio Sebastian, sia nei dialoghi che nel canto, è del cantante Mahmoud, l'uccello marino Scuttle, alla voce di Alessia Mendola. Sandy dai Mille Colori è su Anime Generation in una nuova versione integrale, con il doppiaggio delle parti mancanti all'epoca della prima trasmissione televisiva in Italia della serie anime, il 1987. La voce della maghetta amante del disegno Sandy è di Deborah Magnaghi. I folletti Pico e Paco sono doppiati da Marcella Silvestri e Patrizia Salmoiraghi. Radio Monte Carlo sarà la radio ufficiale di Umbria Jazz. L'emittente del gruppo Mediaset dedicherà 130 ore di diretta al prestigioso Festival Umbro, che quest'anno, a luglio, festeggerà il cinquantesimo anniversario. È tutto da Angelo Costanzo. Buon ascolto su Voci.fm Radio. Grazie a tutti.